Questa sera era doveroso parlare e avere l'ospite che abbiamo perché Peppe Petridieri che è un uomo di multiforme ingegno come hanno detto poemi epici, diciamo che è un artista che oltre a occuparsi di fiori l'abbiamo avuto una volta premiato a una manifestazione nazionale è anche un grande uomo del presepe, è uno che due anni fa abbiamo visto quel presepe dove era quello vicino a Modico, al barco, questo qui lui è sempre il curatore del presepe dell'Anfas che vi invito sempre passando a vederlo perché è una cosa non solo spettacolare ma sempre un significato profondo poi con l'arco la sua associazione culturale ha curato presepi a Vittoria e a Chiaramonte ma man mano scorreranno delle immagini, non è tanto per parlare, volevo sapere Peppe oggi sinceramente un ragazzo giovane, un ragazzo che si occupa tra le tante cose, socialità eccetera di presepi, ti capita qualche volta di pensare che sei un po' passato di moda? Assolutamente no, devo dire la verità perché il presepe oltre ad essere un elemento ecco celebrativo è anche un'opera d'arte e quindi per chi fa arte in qualsiasi senso dall'arte figurativa all'arte plastica all'arte pittorica il soggetto presepiale è comunque una cosa che viene sempre a galla perché celebra la nascita, celebra questo mistero e quindi è una cosa veramente molto attuale anzi a maggior ragione nei giorni nostri queste forme d'arte sono delle forme d'arte che vengono molto ammirate, si parla di micromondi Esatto, tra l'altro credo che dovremmo avere parecchie immagini vedendo che la regia le fa scorrere senti un po', ma c'è un altro fatto, oltre a farli però costruirli materialmente che intanto scorrono delle mani, tu registri anche mentalmente le persone che le vedono che reazioni ha? Di stupore Scusami, sono diverse le reazioni tra bambini e grandi o no? Io devo dire la verità, è una cosa che è comune a tutti all'adulto lo fa ritornare tra virgolette bambino ma bambino non è tanto nell'animo, ma nell'ammirazione, nello stupore è un momento veramente molto mistico al di là del fattore per alcuni religioso, per altri più intrinseco Scusami, questo è particolarmente bello, questa idea del mandolino col presepi è uno dei presepi esposti alla mostra d'arte presepiale di Chiara Montegro Torniamo un attimo nell'immagine presente se possiamo, si dicevi appunto un'opera esposta nella mostra d'arte presepiale a Chiara Montegurfi nell'ex museo dei cimeli militari e museo d'arte sacra considerate che c'è una mostra attualmente visitabile con più di 70 pezzi, 70 opere d'arte provenienti da tutta la Sicilia Ma questi sono un po' di orami più che presepi? Allora, sono misti, ci sono dei presepi e dei di orami e anche il presepio, perché c'è differenza tra il termine grammaticale presepio che individua... Allora, spiegola un ignorante come me, esatto Il presepio indica proprio la scena della natività, quindi la sacra famiglia Il presepe si allarga al paesaggio, ai mestieri, alle tradizioni ambientato culturalmente da dove viene appunto l'artista Poi in qualsiasi periodo, ci si mettono anche i personaggi del mondo moderno può capitare di tutto Ci possono essere anche, sì Perfetto, ma c'è una particolarità Ripeto, tu sei l'animatore base, creatore sicuramente del presepe dell'Anfosa Là entriamo in un altro ambito ancora C'è un significato umano, sociale di solidarietà, di lotta alla malattia a situazioni incredibilmente difficili E mi porta a chiederti, i tuoi collaboratori, gli assistiti dell'Anfas Cosa sentono mentre fanno? Cioè partecipano innanzitutto? Attivamente, c'è veramente una corsa al giorno dell'inaugurazione del presepe E quindi ognuno di loro, ogni ragazzo, ogni utente è messo con le proprie capacità, con la propria autonomia con la propria consapevolezza a cercare di creare Noi usiamo molto l'arte della carta pesta Ecco, mi ricordo di altri anni, non so, strappavano pezzi di carta Strappavano, sì, a sequenza c'è chi strappa pezzi di carta chi fa il passaggio successivo della carta da colla chi la parte invece della coloritura chi proprio anche la parte dell'installazione perché poi viene montato questo presepe quest'anno è in una modalità drive-in quindi visibile alla piazza antistante fino alla mezzanotte è una nuova formula che ci siamo dovuti inventare Quindi se passate lo potete vedere fino a mezzanotte Sì, sì, fino a mezzanotte Perché è illuminatissimo È illuminatissimo Oltretutto è sia presepe che installazione di elementi architettonici barocchi della nostra città perché abbiamo voluto professionalizzare i nostri ragazzi a diventare guide turistiche accessibili proprio per altri ragazzi e quindi in questa cucina di creazione ci sono state sia la creazione dell'installazione barocca sia il presepe drive-in questo quest'anno viene chiamato Baroc Christmas Proprio da questa... Bello, bellissima anche questa questa è molto bella Domanda Quando avete fatto quello, come si chiama? A barco? A barco, al comando a barco Tu mi hai detto che il presepe ha anche fatto un'altra cosa importantissima che spesso viene dimenticata capita per esempio con i presepi viventi la rivitalizzazione di alcuni posti non è il problema del Giarratane ma per esempio quello che è un piccolissimo posto una contrada, un pochissime persone proprio si sono sentiti tutti coinvolti Tutti coinvolti c'è stata anche lì una ricerca anche non solo delle location che ci sono state concesse e incomodato d'uso ma anche la ricerca degli utensili, dei materiali utensili e materiali che erano in prestito ma si parla anche di pezzi veramente da museo storici che abbiamo poi sistemato in maniera scenografica per cercare di allestire ecco le varie scene degli arti e dei mestieri di una volta della Contea e ho una curiosità il creatore di presepi, che è una cosa bellissima ha qualche presepi che ancora ha in testa e che ancora non è riuscito a fare il presepi nel cassetto allora l'artista presepista lo dico anche a nome degli altri componenti dell'associazione L'Arco non è un artista che finisce col Natale col periodo di Natale è un artista che continua sempre durante l'anno, in estate non c'è un... ma che cosa? nel trarre fonti di ispirazione materiali da utilizzare non solo, nel tirare fonti di ispirazione nella ricerca dei materiali perché c'è una ricerca di materiali nell'osservazione anche di ciò che ci circonda e quindi nel prelevare anche elementi vegetativi più che ad esempio anche elementi che possono appunto che possono venire a noi durante l'arco di tutto l'anno e non è mai fermo nel... immagazzinate e poi... ma la cosa più difficile da riportare in un presepe è così, lo scorre dell'acqua, non così? no, ogni artista secondo me va a un suo percorso e ogni artista tra virgolette combatte nel senso buono no, no, combatte contro il proprio... quel proprio obiettivo cioè per alcuni l'acqua il mio... sono diversi ma il mio è la rappresentazione della roccia come elemento... come dire... come elemento anche iperrealista voglio... usate la carta festa ma spesso usate anche altro, no? usiamo anche degli altri tipi di... degli altri materiali di... in aggiunta quindi gesso possiamo utilizzare anche della sabbia ho capito e tu hai fatto qualche presepe sai, ci sono quelli spettacolari meccanici un po' come i trenini eccetera io non ho fatto di quelli no, io di quelli meccanici no però ci sono degli artisti ci sono capolavori incredibili l'artista presepista deve essere un artista poliedrico una chicca della mostra d'arte di Chiaramonte e Gulfi è un banco che avete visto anche nelle immagini che stanno scorrendo questo banco e questa è quella del bandolino sì questo banco sopra ha un secchio con della calce ha dei pennelli ha degli elementi elettrici ha non solo ha anche delle cazzuole tutta una serie di... perché l'artista presepista è un artista poliedrico se per un pittore c'è una tele e un cavalletto per un artista presepista c'è un banco da lavoro e tante nozioni di tante di tante attività perché il presepista non è solo scenografia ma è anche modellazione dei personaggi e anche essere un po' elettricisti e anche... e anche sensibilità però dell'artista e anche sensibilità soprattutto dell'artista benissimo andiamo a chiudere ti ringraziamo per questa carrellata ricordiamo il presepe dell'Anfas che è quello che vedete a Ragusa poi c'è la mostra a Chiaramonte e c'è a Vittoria scusami fino a quando continuai ad avere vita perché di vita si tratta il presepe dell'Anfas allora il presepe dell'Anfas è aperto fino all'8 di gennaio e così anche per quanto riguarda le mostre di Vittoria e di Chiaramonte e Gulfi il presepe dell'Anfas è aperto tutti i giorni praticamente visitabile tutti i giorni fino a mezzanotte in modalità Dreivind in modalità Dreivind passando per via Eugenio Criscione Lupis perfetto mentre per quanto riguarda le mostre del Castello Enrico ex carcere a Vittoria e del e del Museo dell'Arte Sacra a Chiaramonte e Gulfi sono aperti tutti i giorni dalle 17 alle alle 20 e 30 e tutti i festivi i sabati e festivi dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 17 e 30 alle 20 e 30 perfetto è un'altra cosa che volevo dire non c'entra col discorso di Peppe ma il presepe questo diciamo così statico non è assolutamente in contrasto in opposizione col presepe di Venti anzi tutte e due messe insieme integrano l'offerta con quella che è una storia antica che rimane sempre incredibile al di là di chi è credente di chi no ma il fascino e la poesia oggi l'abbiamo dovrebbe essere un altro termine ma diciamo lo abbiamo svilito col consumismo ma al di là di tutto anche in un Natale con 22 gradi come rischiamo di averlo Natale è sempre Natale e quindi tutti coloro che contribuiscono ad ampliare la poesia dell'offerta che è l'offerta Natale secondo me sono delle persone che meritano il massimo rispetto alla massima considerazione in più aggiungiamo la qualità artistica che sono notevole a nome loro ho voluto stasera avere viene spesso da noi uno tra i rappresentanti più vari grazie a Pepe Petrini grazie a voi andate a vedere tutti i presiedi vi aspettiamo quello dell'Anfaso vedetelo passando state attenti guardate lì ma state attenti anche alla strada e vi saluto grazie grazie grazie